Non c'è problema ragazzi, non c'è nessun problema Ah hai ragione lo blaze mannaggia, non ci sono dimenticato vabbè Non ho preso lo blaze Allora Ok Easy Gli stai tagli con Varus No davvero il game di prima era difficile non fare quelle morti che ho fatto eh Potevo farne qualche due nemmeno ma non cambiava niente Era impossibile rimanere in vita con Brom che trollava E looks up Non c'è nessun problema Oh 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 E' una lane difficile questa, molto difficile Ora è chiaro che devi cappare, non vedi stanno ce ne dovrei di noi, anzi Natlus fortunatamente ha trollato Però io ho gridato Ha trollato perchè è ingaggiato, ha sprecato la cuba prima di fare level up, quindi poi non ha potuto fare l'uccisione su di me Ha trollato si ragazzi In che senso? Certo potremmo scegliere anche una lane phase conveniente una volta So che Natlus è nell'altro ma questo lo tengo guardato Non ho mano fuck, volevo fare la Q No il biatto perde il carro, ah ti odio No se giocai le blaze ho sbiato le rune Letality o un hit? Letality Forse era meglio lasciare boots a Ionia per poter doggiare i skill shot E l'ancora di Natlus Vabbè No no no, se giochi l'etality bar si giocai lo blades Dark harvest è una caccata, aspetta le rune Se giochi un hit bar si giochi chiaramente le dalle del tempo Ok Cattivissimo Volibear Ma la goccia non si prende con Varus Ah? Mi ha sparato la Q Non volevo sparare la Q È matto Non dobbiamo pushare Perché sta pushando? Ma perché non volete fare bot? Ma perché non volete fare bot? Che sfiga Tristana uno di vita è frenatrice Possiamo resettare Usare la W Ah si attiva non è più solo passiva Oh shit cosa fa Ma l'avrei ammazzato se avessi attiato la Q La W Nooo Me ne sono appena accorta un'attiva Ma un tempo non era solamente passiva questa spell Cioè mi stai dicendo che se avessi attiato la W Qui avrei ammazzato Tristana con la Q E' broken E' ancora più broken allora Valus Fantastico Bot is free Stuffs Ah la W mannaggia a me Non mi dimentico proprio Per me non esiste l'attiva di Arus Di nuovo avrei fatto una kill pen Solo dovevo Sono abbastanza sicuro Let's go Hey Jin Man I'm playing ADC I'm so happy That's the best rule ever I just got played by a Brom But it was completely garbage It was like I don't know Like 5% my fault 90% jungle diff And bottling diff And support diff But hey It's okay I'm not like You know Come si dice per molos in ingles But Whatever Yeah I know man I fucked up First of all This is like My first time playing Barus But first of all I have no idea Like I legit I had no idea You could press W I thought it was Only passive spell And then Yeah I forgot to change runes And I went Dark Harvest But thank you Yeah If you wanna coach me I'm super happy This lane is a bit of a struggle Because every time we get hooked We basically die So So che dovrei sfruttare la fastidia delle stack di Barus Però mi viene difficile da fare Non sono abito da giocare di carry con poca attaccia Non sono abito da giocare di carry Punto Ancora meno quelli con poca attack speed Cioè Jean si Ma Jean è diverso Jean è speciale Ah 2v3 lo potremmo fare Oh fuck Ma vinciamo sicuramente La W Mannaggia mi dimentico Perché mi dimentico la W Magari come seconda si maxa por la W Yeah man I don't know why But to me like W does not exist Because I'm so used to the old good Barus with no W You know And so basically every time we fight I forget about it And once the fight is over I'm like oh my W urdur yeah but without hell of blades it's such a struggle to put down autos without any kind of attack speed unless I get reset from the passive and then in that case maybe I can try an auto immaginavo non servisse il flash però volevo essere sicuro questo mi ammazza dovrei andare back ci ha provato a scappare ah the W I mean he flashed anyway so that will not matter anyway sedge I don't know about Varus I feel like I would be feeling much more comfortable if I go on hit Varus instead or I just have to get used to this new champ grazie grazie if you ult oh ok quindi se fa la ulti diventa diventare restack ok 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 grazie allora abbiamo un gatto davvero grosso un mega gatto potrei dire ehi mi stanno guacciando no comunque Varus mi piace tanto esteticamente il campione mi piace la ulti ma non so se fa per me ragazzi la vera attack speed mi manda veramente in confusione non mi da le giuste vibes non mi da è da riprovare con l'ethal allora quali parola ulti? no wait di permettere la W me la ricordo facilissimo la W e dove è finito? I bad oh genius che dire ah di cari gap fatemi partecipare schifosi ma magari con le morti ma con le kill sarebbe più carino game troppo easy game troppo easy ma cosa nice positioning è troppo facile ok ok thank you man I'll consider I don't think I'm gonna go Varus any other time I feel like attack speed tilts me a bit so maybe I can try little tempo ho partecipato sì che ho partecipato oh oh bonk oh guarda interrotto l'ho comprato ma no ho sbagliato andrò a comprare questo bene no non è vero questa è una bugia Salas che carina è il mio canale è vero più unico che raro guardalo guardalo one behind Salas Brids bam 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 ah comunque Salas è il campione è broken solo che è facilissimo entrare con Salas però è il campione è broken fa Kiru abbiamo rassato per benino oh yes baby un bar si può fare air flash tempo di testare credo di sì ok si può mia ah damage free champ wow che damage broken champ e perché l'hai potuto fare non c'era alcun bisogno e questo è il primo che ha incariato l'adcar il primo della nostra storia è così che sono diventato l'adcar più forte dell'Europa mmm yummy 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 deliziosi LP delizioso feedback facile ok 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 Grazie.